Matteo Messina Denaro potrebbe comparire per la prima volta in un'aula di tribunale nel processo che si celebra a Caltanissetta dove è imputato come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La direzione distrettuale antimafia del capologo Nisseno continua le indagini su eventuali mandanti occulti e sul possibile coinvolgimento della destra eversiva. L'occasione potrebbe essere giovedì 19 gennaio, giorno in cui la Corte d'Assise d'Appello ha fissato la prossima udienza alle 9.30 nell'aula bunker di Caltanissetta. Fino a questo momento il processo si è celebrato in contumacia e l'ex latitante è stato giudicato in sua assenza. Giovedì sarà il momento delle conclusioni della difesa dopo la requisitoria del procuratore generale Antonino Patti e delle parti civili. Intanto Messina Denaro è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Il superlatitante verosimilmente sarà presente in video. Ieri infatti, subito dopo il suo arresto, è stato trasportato con un volo militare all'aeroporto di Pescara, destinazione che potrebbe far pensare al carcere dell'Aquila come luogo dove sconterà la sua pena. Si tratta di una struttura di massima sicurezza che in passato ha ospitato personaggi di spicco della criminalità organizzata e inoltre l'ospedale del capologo sarebbe dotato di un buon centro oncologico.